ciao Samuspina oh yes esattamente Samuspina sì 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 allora devo partire sempre dalla domanda più stupida quindi è il nome d'arte ok banalissimo nome cognome perché il mio nome è Samuele quindi il mio cognome è Spina e quindi abbiamo unito Samuspina più semplici di così credo non ci sia quindi sono andati molto più semplici questa volta rispetto anche alla domanda allora tu nasci come tu sei nato come producer assolutamente sì quindi come mai poi hai deciso di produrre questi due simboli allora io principalmente nasco prima ancora come dj poi mi sono spostato molto di più sulla parte della produzione dato perché comunque facevo diverse feste tra amici nei club anche e ad una certa ho detto cavolo voglio suonare anche le mie canzoni quindi detto perché non approccio anche il mondo del della produzione da lì in poi appunto dj produzione e nell'ultimo periodo tanti pensieri in testa tante a tanta scrittura produzione per per altri artisti anche e soprattutto questa volta in italiano e ho detto ma perché non ma perché non mi ci diverto anch'io su questa cosa qua che è una cosa che ho sempre amato anche da sin da piccolo e quindi da lì è partita avevo tante strumentali finite e ad una certa non volevo più quasi scriverle in inglese con altri artisti da tutto il mondo e ho detto cavolo voglio 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 sperimentare qualcosa di mio e mettere giù i miei pensieri e i testi del come è stata un'ottima idea perché poi parleremo di questi singoli grazie perché come si fa ad esempio il primo brano yes porterei tre mila volte al giorno grazie mille quindi intanto come nasce questo primo singolo allora questo appunto come si fa è appunto il primo il primo brano del del progetto e sono molto contento anzi di averlo rilasciato come primo è un brano che probabilmente si distacca anche un po rispetto agli altri nasce devo dire prima di ottobre uno dei primi brani che ho creato ed è stato forse l'unico brano che ho chiuso principalmente in studio quindi sia la produzione sia la la stesura del testo assolutamente no anzi ci sono voluti diversi mesi perché sono diversi pensieri e concept messi messi giù e quindi scritti sulle note su fogli in testa proprio però per quanto riguarda la parte della strumentale si è nata è nata e chiusa credo finita in poco tempo in studio quindi quindi sono molto contento di questo e appunto ritornando sulla parte della scrittura del cantato c'è voluto un po di un po di tempo per per chiuderla al meglio a tante immagini al suo interno che descrivono quello che forse sono quello che vivo anche che si distaccano un po anche dal secondo singolo infatti non sono così connessi come due due singole a livello di di scrittura e però sono appunto molto contento che sia stato il primo singolo rilasciato perché ha aperto il progetto in modo chiaro secondo me quindi è un brano molto ballabile magari molti non si concentrano anche sul testo quindi di che cosa parla ad esempio come si fa allora appunto come si fa secondo me parla un po della spensieratezza che ventenne vive probabilmente anche un po gli alti bassi le paranoie appunto è un brano più personale rispetto a cercavo te quindi ci sono delle immagini che io personalmente ho sentito anche durante gli anni all'interno del mio di quello che sono e appunto la racconta questo sentirsi cercare di essere normale a volte anche per gli altri e quindi ricercarsi continuamente cercare un un essere domande su domande dire ma io sono normale come voglio gli altri sono normale come dico io e quindi non voglio dire un insieme di paranoie però comunque sono tanti pensieri ecco sono tante immagini tanti pensieri soprattutto all'inizio dove abbiamo una stesura di tante immagini di cose che a volte probabilmente anche odio quindi quindi la routine il macchia nuova il mutuo la rata tutte queste cose che che uno si chiede oddio ma come si fa appunto a vari pensieri ecco sono vari domanda che ci facciamo al mattino la prima domanda che ci facciamo al mattino è stato quando ti svegli hai detto ok scrivo esattamente questa cosa qua no però comunque però comunque è stato è stato bello a scrivere mettere giù il concept di quel di quel di quel singolo ecco cosa che riscontro degli ascoltatori qual è stato un po anche spiazzati magari sul primo pezzo ad esempio se avessi rilasciato secondo me cercavo te come primo pezzo era più ok so che il tuo mondo hai aggiunto una bella parte di te quindi cantando però come si fa entra proprio secondo me anche un po a gamba tesa su questa cosa quindi a livello anche di scrittura di testo e appunto sono molto contento perché ha veramente un un concept preciso delineato che cade credo anche un po pennello su di me quindi perfetto infatti intanto per poi arrivare a cercavo te per poi arrivare a cercavo te esatto che è che che appunto il secondo è il secondo singolo di questo progetto un pizzico diverso credo forse anche un po più gaso cioè quindi un po più ballabile un po più un po più catchy anche per quanto riguarda la stesura del 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 testo è nato molto più di getto e ma sempre con questa voglia appunto di di scappare dalla routine dalla monotonia dalla città e cercare di 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 svagare un appunto cercavo te si riferisci a una persona specifica allora eh precisa precisa no ma appunto è un è un'immagine che che voglio dare a un gruppo esseso di persone ecco appunto quindi non è non è non è così persona cioè è personale ma non così tanto riferita a una persona è un bisogno magari è un bisogno esattamente è un bisogno è più è più un bisogno di è un bisogno esatto bisogno e quindi ovviamente sempre lo stessi dedicando a delle persone da ascoltare dire ok cavolo mi ci rivede in questo voglio scappare anch'io con quella persona noi due su sul motorino quindi hanno tutte anche lì delle immagini cioè il motorino può essere definito come un aereo una macchina un treno i due caschi come come due bigliette aeree appunto cioè sono tutte le immagini può essere anche evadere un po' della routine esatto esatto soprattutto per quello evadere dalla routine quotidiana in quello mi ci rivedo tantissimo che penso sia una delle mie non paure più grandi però comunque soprattutto quando arriva quel periodo lì quando ho scritto appunto cercavo te è febbraio e febbraio marzo appunto è quella voglia di scappare principalmente un po' al mare ecco anche che è appunto il punto fermo le vibes sono sempre lì il mare è sempre sì anche perché adesso arriva l'estate ideali per ballare esatto un brano molto estivo se così possiamo definirlo e tu ti aiuterai tantissimo questa estate perché ci sono già dei live in programma sì 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 esattamente abbiamo avuto la 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 grossa occasione di di aprire tre date di taranai appunto che è uno dei miei artisti preferiti in italia devo ammettere sia per il mood dello stile comunque mi piace mi piace molto come come canta come approccia come approccia lui proprio alla musica in generale quindi mi piace mi piace molto e sono super contento di questa di questo di aver ricevuto questa opportunità appunto facciamo la prima data a Torino il 14 luglio la seconda e la terza a settembre sono Milano e Roma quindi non posso lamentarmi assolutamente di questa cosa sono iper contento possiamo definire il tuo anno questo non lo so faccio lei però si spera si spera no abbiamo lavorato veramente col mio team ma anche appunto veramente tanto e bene negli ultimi mesi quindi sono contento sono appunto molto spensierato non ho obiettivi fissi in testa non metto paraocchi non metto frasi del tipo oddio devo farlo per forza però sono sono contento sono faccio 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 poi quello che che verrà verrà però perché poi a me piacerebbe ascoltarti da vivo però tu pensi sia ancora presto proporre un live tutto tuo ma live tutto mio più che a livello di cantato è più a livello di 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 contenuti quindi di song appunto vorrei prima arrivarci con calma con calma quello quindi magari dopo un album dopo dopo dei contenuti abbastanza siccome per ogni artista credo sia giusto così però però appunto le questo questo piccolo live lo facciamo quindi sono super contento e suoneremo delle nuove le nuove canzoni allora per chiude l'intervista domandone cosa ci dobbiamo aspettare dopo questi due singoli lasciaci la colina in bocca sicuramente il terzo che arriverà brevissimo ed è uno dei miei preferiti tra l'altro spero possa fare un bel po' di casino quel singolo lì è super estivo e quindi appunto arriverà breve e poi tanti 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 nuovi singoli che probabilmente saranno anche un pizzico diversi che chiuderanno il primo cerchio da qui a settembre e appunto le tradate di le tradate che abbiamo adesso in programma e tanto divertimento tanto divertimento da da buttare fuori ecco ovviamente consiglio di seguirti appunto per non perderci queste novità sicuramente e di ascoltare i due singoli bellissimi ripeto perché ovviamente c'è tanta spensieratezza quando si ascoltano questi brani ed è importante dopo un periodo difficile che abbiamo passato tutti assolutamente sì esattamente quello il il fulcro dei 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 brani quindi spero possa veramente piacere a a tutti a chi l'ascolta possa possa medesimarsi in quei in quei brani nei testi soprattutto ma anche nella strumentale che appunto è è molto denso ci ci fa divertire ecco fa muovere quindi spero possa questo sicuramente ti ringrazio grazie mille veramente grazie mille alla prossima a presto sicuramente a presto